L'Emma Villasena perde l'ennesimo match al tie-break contro Moda, ogni una partita due volti, sentiamo le parole del coach Yoman El Cichello. Io vorrei ringraziare al nostro capitano Saeed Marouf perché non è stata una scelta tecnica che non è stata all'inizio, lui ha un forte dolore alla fascia plantare da tre settimane, il staff medico ha consigliato che non poteva stare al massimo della sua condizione, perciò siamo iniziati con quella prima formazione. Quando dopo ho visto anche la squadra in difficoltà, gli ho chiesto se sei pronto, andiamo a giocarcela, voi avete visto che lui ha fatto il suo contributo, come anche aiutato a tutti gli altri giocatori, questo è lo che dico, i singoli o i nomi da soli non vincono, la squadra oggi ha avuto una bella reazione, sia nel terzo sia nel quarto set, nei primi due abbiamo subito molto la loro battuta, soprattutto Yoman, ci hanno fatto 11 ace in due set, 14 il totale della partita, quindi quando anche noi dopo, ad esempio il nostro battitore più forte che è Yuri, oggi non è entrata la battuta, fai un po' fatica con una squadra del genere, però come diceva prima sono contento della reazione, sono contento che la squadra ha lottato, prendo lo positivo per queste due finali che ci mancano ancora a tentare, come l'ho detto tantissime volte, questa società, questo pubblico, questa città, questo Presidente merita essere in a uno, noi tenteremo di fare tutto il massimo possibile per raggiungerlo.